Zoidberg87 chiede, com'è oggi il suo rapporto con Renato Pozzetto? Beh, è l'unico amico sinceramente, amico intelligente, simpatico, comicissimo, bravissimo e gli altri, insomma, oh, siamo anziani e molti non ci sono più. Un rapporto ottimo, direi che spero ancora di lavorare con Renato, ho fatto tre film molto importanti, abbiamo cominciato insieme, insomma, è una persona straordinariamente divertente, è quello che è riuscito a farmi sempre comunque ridere.